Ancora oro per le sciatrici azzurre ai mondiali dopo la Brignone nella combinata. Oggi la Bassino è prima nel Super G. Vediamola con Marco Franzelli. Marta Bassino! L'Italia delle donne che fa il bis. Due vittorie a zero. La lettera B che si ripete da Brignone nella combinata a Bassino che capovolge le previsioni in Super Gigante. Tocca a lei, Marta, 27 anni a fine febbraio. Sono veramente contenta, felice e devo ancora realizzare bene. Infatti sono un po' su di giri, un po' che sto male, un po' così, tutto bellissimo però. Mai dire mai le hanno insegnato i genitori a Borgo San Dalmazzo, provincia di Cuneo. Il papà maestro di sci. Bassino, quella che parte più piano dell'americana sci, fringrande e favorita, alla fine argento. Di Brignone, di Goggia. Ma una curva dopo l'altra rimonta, senza ansia. Non commette errori, va più veloce dove le avversarie rallentano. Un po' anche il coronamento di tutto quello che c'è sempre dietro del lavoro, della costanza. Sono buona ma non remissiva, dice. Nello sport non serve cattiveria, magari un po' di egoismo. Così 25 anni dopo Isolde Kostner, seconda italiana, a vincere il Super Gigante ai Mondiali. Dopo l'oro nel parallelo, due anni fa, a Cortina. Bassino, l'arte della pazienza sugli sci. Bassino, l'arte della pazienza sugli sci.